Volontariato e giustizia, omonimo titolo della delegazione del CSV Poiesis, è l'argomento dell'incontro svoltosi nel pomeriggio di oggi, sabato 8 ottobre 2016, nella sede dell'Associazione Vivere Insieme di Brindisi, in occasione della giornata conclusiva del progetto Carcere degli Innocenti 2016, promossa e organizzata in collaborazione con diverse associazioni di volontariato di Brindisi. Il progetto è stato avviato nel 2011, nell'estate del 2011, in quanto è nata l'esigenza da parte delle famiglie dei bambini che andavano ad incontrare i loro papà detenuti, di non farli rimanere negli spazi ristretti di questi vani antistanti all'ingresso nella struttura carceraria e ad ascoltare quelle che erano le problematiche della carcerazione del loro papà. Quindi è stato avviato questo progetto per cui tutte le associazioni di volontariato si sono messe a disposizione per attivare dei laboratori creativi, artistici, in maniera tale che i bambini fossero distratti dalle preoccupazioni familiari. Quest'anno il CSV ha preso molto a cuore questo percorso, per cui ha istituito anche il 21 giugno la delegazione tematica volontariato e giustizia e abbiamo avviato anche un corso di formazione per i volontari che si approcciano a questo servizio, perché è vero che il volontario ci deve mettere nel cuore, però bisogna anche essere preparati per affrontare determinati argomenti. Bisogno e diritti dei minori è stato il tema principale della discussione che ha visto la partecipazione di diversi esperti del settore. La questione dei bambini che vivono l'esperienza di avere un genitore in stato di detenzione ci pone una serie di questioni. La prima riguarda l'inadeguatezza degli spazi, delle strutture carcerarie che non sono idonee né dal punto di vista strutturale né dal punto di vista logistico ad accogliere dei bambini e ad accoglierli in un momento delicatissimo qual è quello della visita al genitore, del momento del colloquio. Su questo piano molti degli istituti di pena si sono attrezzati grazie anche a un processo di cambiamento della cultura relativa al valore che hanno le relazioni affettive delle persone detenute. Quindi molto è stato fatto per rendere più umani gli spazi, per evitare il più possibile le barriere nella fase del colloquio. Tanto si deve ad organizzazioni di volontariato, inoltre che stanno curando il caso del progetto che oggi viene presentato qui a Brindisi, stanno curando tutta la fase dell'accompagnamento del pre e del post colloquio per rendere meno gravoso per i bambini, proprio superare la difficoltà di viversi quel luogo e quello spazio completamente estraneo alla loro esperienza di bambini. Tanto altro si può fare per far crescere tutta la società complessivamente rispetto proprio al pregiudizio che accompagna spesso i bambini che hanno un genitore in carcere, che li porta a volte a vivere con un sentimento di vergogna e con la dimensione del segreto l'avere un genitore in stato di detenzione anche negli spazi scolastici, per esempio. Tanto altro ancora va fatto per aiutare i genitori detenuti a vivere in modo sempre più efficace la relazione educativa. Noi stiamo provando proprio con il collega garante dei detenuti a incentivare delle esperienze proprio di sostegno alla dimensione della genitorialità, rendere questi genitori sempre più consapevoli che è possibile mantenere una relazione educativa che è utile non solo per se stessi come adulti ma è un diritto dei bambini, mantenere un rapporto efficace anche durante il periodo della detenzione. Nel corso dell'incontro è stata inaugurata la mostra dei lavori realizzati dai bambini nell'ambito del progetto Carcere Innocenti 2016. Le iniziative di formazione sono sempre fondamentali per avere una competenza qualificata, per essere più efficaci e possibili rispetto alle esigenze dei detenuti. Certo la centralità dei bambini è fondamentale, non ci dobbiamo dimenticare anche che molti detenuti hanno bisogno, penso ad alcuni padri, hanno bisogno anche di un tempo qualificato da trascorrere con i loro figli e quindi è fondamentale intrattenere i bambini nel corso dell'attesa ma probabilmente anche un'attività di forte accompagnamento alla fruizione migliore possibile di quei pochi momenti che ci sono di contatto con i figli. Credo sia una cosa fondamentale, da questo punto di vista credo che il volontariato dovrà attrezzarsi sempre meglio e sempre di più.